Esther Albini, ti presento il Pilates Miofasciale. Il Pilates Miofasciale è basato su Pilates tradizionale di Joseph Upertus Pilates e le nuove ricerche miofasciali. Il Pilates Matwork Miofasciale è composto di tre livelli. Primo livello, andiamo a vedere i principi del Pilates, i principi miofasciali, andiamo a vedere le linee miofasciali di Tom Myers, esercizi preparatori, esercizi base, come spiegare gli esercizi ai clienti, modificare gli esercizi e creare delle lezioni adeguate ai vostri clienti. Secondo livello, aumentiamo la didattica, aumentiamo le difficoltà degli esercizi di base del primo livello, inseriamo dieci nuovi esercizi, ma nello stesso momento aumentiamo il nostro miglioramento di apprendimento della nostra tecnica personale. Terzo livello, parliamo un po' dell'esperienza che avete fatto nel primo e nel secondo livello, eliminiamo gli errori o possiamo migliorare anche gli esercizi che sono stati visti nel primo e secondo livello, sia la vostra tecnica, sia la tecnica come insegnante. In più andiamo a vedere dieci nuovi esercizi di livello avanzato e con questi concludiamo i nostri 35 esercizi del percorso Pilates mat miofasciale. Alla fine del percorso del Pilates mat work miofasciale è previsto un esame di certificazione. Perché dovresti scegliere Pilates miofasciale? Perché sono due mondi che si incontrano. Il Pilates tradizionale di Joseph Hubertus Pilates è il nuovo mondo miofasciale. Quello che facciamo è uniamo questi due mondi rendendo il Pilates più scientifico, più efficace, perché veramente andiamo a cambiare la tua postura, la tua sensibilità del tuo corpo. È un lavoro molto profondo che andrà a cambiare anche la tua mente. Non rinunciare a questo cambiamento. Scegli Pilates miofasciale. La profondità di quello che andiamo a fare non è solo muovere gli atti superiori e inferiori, ma proprio connetterti con te stesso. Capire cosa stai muovendo per migliorare la tua capacità di movimento e non solo di equilibrare la tua forza, di fare la meno fatica possibile quando fai un movimento. Vai alle radici e questo te lo spiega Pilates maturk miofasciale.